Siamo in un nuovo video, siamo felicemente arrivati a Seoul, alla fermata della nostra casetta. Andiamo a cambiare i soldi con mio zio che lo risistemo ma non lo metterò qua. Io l'ho già cambiato ieri e adesso lo metteremo a casa e lo mangiamo in mini store. E poi all'età abbiamo un check in. Solo l'una, diciamo, è luna. Abbiamo due ore. Due ore più calde per me. Ah sì, sono toccata, ha visto? Siamo in un punto in cui questo asset è tranquilli, siamo andati appena a 7-Eleven. Io ho preso due di questi, uno ho già avuto molto buono. Io ho già preso due orange sparking, ovvero lo riposo sempre un first one e i biscotti danno due primo gratis. Due primo gratis che ho preso i dolcioccolato e Happy Ritz. Il dolcioccolato è uno normale. Questo asset ne ho prende per prendere altre cose. Di sicuro lo trovo super tratto perché stiamo prendendo cose più grosse. Questa è buona, però l'aranciato è più buona. Però costava anche di più, quindi lì è. Vabbè, per l'Italia il latte qua è caro, però me lo sapevo già. Il latte io volevo prendere il ramen, ma fa davvero troppo caldo. L'ho idea di darlo cucinare e mangiarlo caldo. Quindi aspettare adesso un'oretta e poi andiamo all'appartamento. Che abbiamo già visto? Una salita così, che con la mia ligia che non funziona bene, fa una fatica della madonna, mi ha già spaccato un piede questa valigia. perché ogni 2x2 al minimo salto si faccio un così e mi va sulle caviglie. Però non posso portare all'altro senso più perché sta pesante. E secondo perché glatta, glatta. Quindi è un disastro, ma va bene. Siamo arrivati. Comunque adesso vi faccio l'ontore subito adesso. Abbiamo avuto una parade, cioè io avevo preso una stanza tenente più insolta che era una stanza condivisa. Invece, non stanza condivisa, però tipo l'appartamento condivisa non era una stanza facendo divisa. Invece c'è troppo c'è fatto tipo, si è cambiato stanza perché si è rovinato un altro altro. Ed è stato un vero proprio appartamento solo. Adesso lo faccio lì. Trapporto dentro col codice, meno male sono un genio. Viste qui. Qua, ovunque, dovrei lasciare stare nel nostro senso qua. Poi si entra, la salita. Subito qua c'è il bagno che non so dove sia la luce. Quindi, ah, questa qua. Yes. Vabbè, bagno qua normale. Doccino ovviamente separato. E soprattutto, ragazzi, c'è il giorno prima andai via. con la minifinistra sul corridoio. Quindi non la apriamo. Vediamo se qua c'è qualcosa. No. Possiamo solo metterci la volante. Ok. Poi, questa meno cose d'altro, ma questo è appunto un lembino, non un hotel e soprattutto. Ok. Abbiamo il letto con il mio fantastico ventilatorino. Qua, così lì, vabbè. Una tavola con un bollitore. Ventilatore. Poi qua, tipo, un divanettino. Cioè, poi niente, tavolino. Divano. Cucina con già anche una padella. Lo stendino. Frigo. Qua c'è una mini porta che non so cosa c'è e non so se si può aprire. No, non si può aprire. Intanto è brutta. Fonda microonde. Sarà utile. Vediamo cosa c'è qua. Niente, la cappa. Vabbè, poi ovviamente l'armadio che ovviamente non ci sarà niente. Che ci sarà coperto uno col caldo che fa. Niente. Poi qua c'è la finestra chiusa. Però vabbè. Yeah. Faccio anche le cose per cui è. Yeah. Va bene. Vado a dormire. Allora, sì, sono qua. Dove poi andare a fare la spesa. Ma aspetto che si raffreddi un po' fuori. Comunque ero qua tranquilla a giocare. Quando hanno usato, vabbè, il proprietario di casa. Sono andata appunto mia. Vabbè. Gentilissimo. Mi ha ringraziato appunto di aver trittato da lui. E che originariamente la casa che non avevamo presa era appunto, non questa. Ma una, diciamo quella di fronte. Un appartamento nella casa di fronte. Solo che appunto c'è stato un problema quest'estate per via dell'umidità. Quindi non era più, diciamo, a posto. E quindi switcha a questa. Quindi invece di avere una camera in un appartamento abbiamo un appartamento nostro. Che al fine non è più grande di una camera. E niente appunto ci ha ringraziato. Io ho ringraziato lui. E nothing. E finito qua. Adesso si chiudarli e andiamo al supermercato. E... Forse lo so in realtà. E in realtà ecco la porta fuori. Non so se tipo... Devo mettere il stesso codice di questa casa. Cioè tipo prendere tutti i codici. Degli appartamenti. O se devo usare chiavi. Perché ci sono delle chiavettine qua. Però... Tipo su questo non funziona. È vero che a vedere che devo passare se c'è un bottone più. Non vedo dove questo bottone. Quindi... Io guardo per i codici. E niente. Torno a giocare bellemente. Sono... Come sempre io il lato muro del letto. E qua c'è il che sia condizionato. E che è il ventilatore. In questo centro stiamo usando il ventilatore. Qui si sta da dio. E la finestra da su un muro. Come mi aspettavo già. Perché dietro c'è un altro palazzo. Non ho preso però. No shorts. Quindi niente. Spoiler. Non sono anch'io cosa prendo per il latte. Infatti in realtà nel video siete anche i toboki. Ma alla fine non li abbiamo presi. Perché... Io non lo faccio con la gojang. Perché non mangia piccante. E il pomodoro aveva un prezzo assurdo. Perché ovviamente è tipo quell'italiana. Infatti c'era tipo arrabbiata eccetera. Però... Che è in cortomia di dio. Quindi burguadron. Un supermercato più grande. Comunque abbiamo preso il latte. Perché non ho bisogno. E... Mio zio. Il gelato. Abbiamo un cucchiaio? Mi sono esattamente... Ok abbiamo qui. E allora niente. Questa è la spesa. Comunque stiamo registrando i video. Per quel progetto. Che saprete. Non so se in questo video o nel prossimo. E... Niente. Adesso mi metto a cercare delle ricette. Oggi puremente fermo la pasta che ho portato dietro. Non lo so. Al massimo esco di nuovo. Tanto c'è un botto di supermercati. Magari ne cerco un po' più grosso. E niente. Così vado a prendere quelle cose. Adio. Prima che debba riprendere di noi in mano il migliatore. Ho lasciato la casa. Sto andando a comprare qualcos'altro. In realtà a misura di tre clienti niente. Al massimo prendere le uova e pane. E quindi... Niente. Ora vado a comprare il no brand. Che sono quelle cose che costano meno. E... Niente. In realtà solo questo zainetto. Quindi non posso prendere molta roba. E... In realtà non filmerò perché ho voluto essere traduttore. E soprattutto c'è un'altra cosa. Ma... Me ne sono scordata. Quindi... Ah sì. Che al massimo vabbè. Prendere un sacchetto là. Però... L'idea appunto è solo prendere qualcosina. Questa sera. Domani. A Francia mangiare qualche comino in store. Credo. Quindi... Niente. Allora è meglio che davvero mettere al navigatore. Se no. Non so dove sono. Fatto. Io te non ho preso molto. Ho preso... Per mio zio. Espressione automatica. Un'altra cosa. Ah ho capito. Ovviamente si sono ruppate dal gicero io. Se non funzionavano in salita. Non importa. Comunque... Con le salite che devo fare. Ovviamente... Lo so perché non funziona più. Si è più... Da casa in alto. Uh aspetta. Tiè. Non so perché non è iniziato a funzionare. Comunque... Ho preso... Alla fine ho preso il sacchetto. L'idea originale. Non prenderlo. Però quando me l'ha chiesto mi è venuta a DNA. E muovo la testa. Quindi... Alla fine l'ho preso anche se... Io praticamente non dovevo prenderlo. Ma che se ne frega. Anche perché in bozza che... Che doci spessero. Che in bozza che doci spessero. Quindi... Comunque ho preso. Per mio zio uova. E pane. E per me ho preso. Una confezione da cinque... Di giacce. Che ho già fatto. I suoi mi piacciono. E... I spaghetti. Comunque vado a mangiare il giacce. Anche se... Mi sono di nuovo diventata... Un coso. Non mi sono fermata a comprare dei piatti. Ok. La prima cosa che vedo. Li vado a comprare. Ce n'è da Daiso sotto. Non ho voglia di scendere. Va bene. Va bene. Non importa. Lasciamo mangiare nella padella. Questi fatti. Comunque non sono morta per le scale mobili. Anche se siano bloccate. Ma va bene. Allora. Sì. Questo c'è il mio indice. Che non c'è video nero dove mi è andato. Questo è il pane per mio zio. Poi per me ho preso appunto questo. Che so già che mi piace. Questi. Che poi. Dove devo vedere come funziona. Perché. Eh. Sì. Tenitenti. C'erano le vo due. Ma. Oltre che non c'erano i funghiere. Io. Avevo due. Questo è un botto qua. Per me. E poi le uova. Per mio zio. Che va bene. Riscacciarle poi così. Quindi. Niente. Il mio bottino di oggi. In effetto. È ancora un po' difficile fra spesa. Considerando i won. Perché ogni volta mi devo fare i calcoli. Ma va bene. Mi ci abituerò. Asperto. Ho trovato un filo. Dove essere quella alcorrente. La tv. Dopo lo provo. Comunque la devo lavare. Questa è la cosa più simile. Che ho trattato al sapone. E va bene. Si usa questo. Eh. Esatto. Comunque. Lì c'è tutta. Ma che poi. Devo andare a buttare. Perché. Qua non c'è un bidone. E fuori. Non li ho visti. Domani devo guardare bene. Mentre andiamo in giro. Eh. Niente. Ce la facciamo. Questo video. Lo faccio qua. Eh. Ovviamente. No. Sarà molto lunghissimo. Questo strumento. Dove. Iniziamo a fare. Il vero pool. Con i palazzi. Prima qualcosa. Voglio mettere un tanto più. Perché. Mi sarebbe mai capito il telefono. Secondo. Eh. Mi sono detto. Secondo. Eh. Vabbè. Perché. Comunque. Farò da guida. Eccetera. In realtà. Farò qualche video. Farò qualche foto. Ma. Non tantissimo. Ora. Mi sto. Staccando. E. Eh. Un po'. Un po'. Un bel po'. La skin care. Mi metto una maschera. Che non so quale metterò qua. Queste. Credo quelle da tanto. Perché. Sono ancora distrutto dal volo. E. Niente. Volevo fare una doccia. In realtà. Ma. Credo come farlo domani. Anche perché dovete vedere come fare. Perché c'è il doccia. In realtà. Però. Se l'appoggio. E scondo. Quindi. Credo farlo. Non lo so. Vedo. Credo essere giapponese. Credo. Niente. Ora vado. A fare la maschera. Non vorrei spaventarvi. E quindi. Non ve lo mostro. Se volete. Un po'. Sotto. Così l'ho fatto. Comunque. Quello. Per andare a montare il video. Per domani. Che. Ancora. Mi sono un po'. Tutto. Allora. Io. Per farvelo. Per farvelo. Per farvelo. E' un po' complicato. Con il fusonario. Però. Cioè. E' bellissimo. Perché il primo. È caduto. Da un lato. Dovori. Busco.